Io faccio il meccanico in cooperativa, mi occupo della manutenzione dei camion della raccolta e di tutti i servizi della formica e manutenzione ordinaria, straordinaria e eventuali. Da quanto tempo lavori in cooperativa? Un anno, è passato un anno. Come hai incrociato, come sei riuscito da arrivare qua? Io ho incrociato la cooperativa, ho iniziato a lavorare qui, guardando gli annunci su internet di lavoro che stavo cercando in quel momento. La cooperativa ha messo un annuncio che cercavano un meccanico con determinate qualifiche e quindi sono venuto a candidarmi. Conoscevi già il mondo della cooperazione? No, non conoscevo il mondo delle cooperative e della cooperazione. È stato un mondo nuovo per me, una cosa tutta nuova. Comunque è una grande opportunità per tante persone di rimettersi in gioco in tanti campi, in tante cose. È una cosa molto valida e utile per tutti, per il sociale comunque. Sull'importanza viene data in cooperativa per quanto riguarda la sicurezza dei mezzi? Qui in cooperativa ci teniamo molto alla manutenzione dei mezzi e la loro messa a punto nel migliore modo possibile. Cerchiamo di tenerli in ordine e sempre puliti o comunque sia sempre messi a puntino. Io mi occupo principalmente di imprevisti, di soccorsi, di problemi accidentali. La manutenzione poi cerchiamo di pianificarla e di organizzarla nel miglior modo possibile.